L'Aggiunta Comunale di Castellabate ha deliberato un piano di fattibilità tecnica ed economica per effettuare un'operazione di riqualifica ed arredo urbano del lungomare Pepi. Già nello scorso marzo era stato deliberato dall'Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Costabile Spinelli, un primo lotto per il valore totale di 631 mila euro, mentre il valore del secondo e più recente lotto è di circa 210 mila euro. L'Amministrazione Comunale di Castellabate punta alla riqualificazione, valorizzazione e caratterizzazione del lungomare Pepi attraverso un disegno architettonico dei marciapiedi, della pubblica illuminazione, dei suoi elementi di arredo e delle opere a verde, capace di migliorarne sia la funzionalità carrabile che quella pedonale. Con quest'opera pubblica verrà esaltata l'importanza del lungomare Pepi come principale strada d'accesso al lungomare della frazione Santa Maria di Castellabate.